Questo è uno dei nostri tavoli migliori! No! È il miglior tavolo del ristorante! Siediti pure, cara amica Antré! Il cibo è sopraffino qui al Caffè Parfait! Servizio perfetto, di grande qualità! Palati raffinati si servono qua! E perciò si buple! Fai un salto al buffet qui al Caffè Parfait! Dobbiamo sbrigarci più svelte del vento! Oppure il suo pasto sarà un fallimento! Guarda che vista incantevole c'è! La Tour Eiffel è proprio di fronte a te! Ma la creme della creme è il nostro menù! Che è magnifique! Forse anche di più! E perciò si buple! Brava pure il consommé! È un piatto da gourmet! Gradiresti uno in tre! Qui al Caffè Parfait! Buon appedì! Allora, hai scelto qualcosa? Quali sono le vostre specialità? Le nostre specialità? Nei ristoranti a 5 stelle hanno diverse specialità del giorno! Oh, me oui, Grace! Anche noi abbiamo le nostre! Vale a dire! Dunque, la specialità di oggi è un gourmet di cracker servito con un gourmet di burro di arachidi e frutta fresca locale, cioè banana! E questo è soltanto il primo strato, perché sopra c'è una base di purea di ricotta e lamponi! Oui, la confettura! Cereali croccanti! E una spolverata di semi di girasole! E tutto ricoperto con scorza di limone! Va bene questa! Spero non ci voglia troppo tempo per averla! Te la portiamo subito! Se ci ricorderemo tutti gli ingredienti! Allora... C'erano i cracker, il burro di arachidi... C'era la ricotta... I cereali... I lamponi! Ci servono dei lamponi! Vado a prenderli tu, continua! I lamponi! Mamma, i lamponi! Vabbè, De Nancy, ma che succede? Grazie! Davvero? Per un tavolo se ne parla il prossimo sabato! I lamponi! Presto, mettine un po'! Sta andando via! Grace, aspetta! Fa' attenzione! Ehi, guardate la fine di quel piatto! Riusciranno a non farlo cadere! Sta per cadere! Ecco! È... Salvo! Come mai questa attesa? Oh, oggi la cucina... Ha davvero molte ordinazioni! Allora... Che cosa ne dici? Niente male! Ma... Basta così! Voglio un dessert! Un dessert! E mi auguro sia sfiziosa! Oh, sì! Lo sarà! Ti rendi conto che Grace l'ha assaggiato appena? Abbiamo lavorato sodo per il suo piatto! Sono molto più che in collera! Sono davvero furiosa! Lei pretende sempre di più! Di più! Di più! Per una buona ricensione! Dobbiamo cercare di accontentarla! Era tutto più divertente prima che arrivasse lei! Grazie per la cena eccellente! Ottimo pretzel! Torneremo sicuramente! Ok! Ciao! A loro è piaciuto il nostro ristorante! Già! E non abbiamo neanche dovuto cercare di stupirli! Pensi Nancy Cleansy su Disney Junior!